come potremmo infatti esprimere a dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro dio mentre notte giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede ora dio stesso nostro padre e il nostro signore gesù ci appianino la via per venire da voi e quanto a voi il signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti come anche noi abbondiamo verso di voi per rendere i vostri cuori saldi irreprensibili in santità davanti a dio nostro padre quando il nostro signore gesù verrà con tutti i suoi santi prima lettera di paolo ai tessalonicesi capitolo 3 versi 9 a 13 grazie a tutti grazie a tutti